I sogni di scoprire terre ancora sconosciute hanno sempre acceso la curiosità e la fantasia umana. Aurora celebra con una nuova collezione in edizione limitata le mappe antiche che hanno permesso all'uomo di scoprire terre inesplorate. Una mappa antica rivela non solo la speranza della scoperta, la passione per l'esplorazione, ma denota anche come il mondo è stato delineato e svelato fino ad arrivare a quello che oggi conosciamo. Cinque stilografiche, simboli di cinque antiche mappe che rappresentano un mondo nuovo e l'aver superato i propri limiti apportando attraverso nuove scoperte ulteriori conoscenze alla civiltà.